Due video fa avevo accennato alla traduzione spiritica, testo critico, spiritico, redatto sotto dettatura, a dire dello stesso autore, di entità spirituali, di Johannes Graeber, il testo critico del Nuovo Testamento, questo ex sacerdote cattolico che, dimessosi dal suo ufficio, aveva preso ad interessarsi di occultismo, di medianicità, e scrisse due opere importanti. Una è Comunicazione con il mondo degli spiriti e l'altro il testo critico del Nuovo Testamento, cioè del 1937. Questa persona ha preteso di fare una propria traduzione del Nuovo Testamento con l'uso, l'utilizzo di pratiche spiritiche. Ora, che cosa c'entra questo con l'obiettivo e i contenuti di questo canale? Ebbè, c'entra. Perché? Perché fino a qualche tempo fa, fino a qualche decennio fa, la Società Torre di Guardia, l'Organizzazione dei Testimoni di Geova, aveva molto preso spunto dal testo critico di Johannes Graeber. Addirittura in alcune pubblicazioni di vecchia data, pubblicazioni della Watchtower, il testo critico di Graeber veniva preso come esempio, come fonte autorevole e veniva spesso, talvolta citato, assieme anche ad altri, dall'Organizzazione Geovista. Fino poi, che a un certo punto, l'Organizzazione, dopo tanto tempo, si rende conto che questa opera di Graeber era stata redatta sotto influsso medianico, quindi con l'aiuto di Spiriti, e smette di citarlo come fonte. Anche se devo dire che è molto strano questo, che l'Organizzazione dei Torri di Guardia ci abbia messo tutto questo tempo a capirlo, eppure Graeber era conosciuto, proprio nel frontespizio della sua opera, testo critico del Nuovo Testamento, c'è scritto le modalità con cui è stato redatto. Ecco, questa è la copertina, vi faccio vedere, ho fatto una stampa, perché ovviamente non sono in possesso del cartaceo vero e proprio. Ecco qua, è la versione inglese, The New Testament, di Johannes Graeber, traduzione inglese fatta nel 1980, sull'originale del 1937, vedete? Pubblicato dalla Johannes Graeber Memorial Foundation, eccola qui. Ora, quello che voglio portare alla vostra attenzione però, in questo video, è che, sebbene l'Organizzazione Torri di Guardia abbia preso le distanze da questa opera di Graeber, proprio per i suddetti motivi, però resta il fatto che alcuni passi della traduzione del Nuovo Mondo, la Bibbia in uso dei testimoni di Geova, sono molto simili a come traduce proprio la traduzione spiritica di Johannes Graeber. Nel video su Matteo, capitolo 27, nella traduzione del Nuovo Mondo, che trovate su questo canale, un esempio è proprio quello di Matteo, capitolo 27. Nella traduzione di Johannes Graeber, se fate un raffronto, io poi in descrizione vi metterò il link dove potete accedere al testo spiritico di Johannes Graeber, per chi lo volesse visionare, però è in inglese, ecco, questo ci tengo a precisarlo, in italiano non c'è, c'è o in inglese o in tedesco, perlomeno io in italiano non l'ho trovato. Per chi non ha problemi con la lingua e lo vuole vedere, vi metto il link in descrizione. Quindi, abbiamo detto, ci sono delle analogie su alcuni versetti per come sono tradotti dalla traduzione del Nuovo Mondo e come sono tradotti da Johannes Graeber in questa edizione del Nuovo Testamento spiritica, pensate. Però, ne ho trovato altre di analogie, oltre Matteo 27, da 51 a 53, per esempio, ho trovato anche Matteo 28, versetto 9. Allora, nella traduzione di Johannes Graeber, c'è scritto, ve lo traduco direttamente dall'inglese, Gesù si presentò in mezzo a loro e disse Salute! Loro gli andarono incontro e si inginocchiarono davanti a lui abbracciandogli le ginocchia. La traduzione dice Embraced his knees, cioè abbracciandogli le ginocchia. La traduzione del Nuovo Mondo traduce così sempre nello stesso passo, Matteo 28, 9, che Gesù si presenta ai discepoli, dice loro buongiorno, loro li si avvicinarono, si strinsero ai suoi piedi e gli resero omaggio. È molto simile il modo di tradurre. Entrambe le versioni nascondono, sia quella di Graeber che la traduzione del Nuovo Mondo, nascondono il fatto che in realtà i discepoli, quello che fecero quando incontrarono Gesù, fu di adorarlo e non semplicemente di inginocchiarsi per stringergli i piedi o rendergli omaggio. Infatti la Nuova Riveduta, sempre nello stesso passo, traduce Avvicinatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. La Cei traduce Avvicinatesi gli presero i piedi e l'adorarono. La Nuova Diodati traduce Accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. La Luzzi Riveduta traduce Accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Invece la traduzione del Nuovo Mondo traduce Gli strinsero i piedi e gli resero omaggio. Un modo di tradurre molto somigliante alla traduzione di Graeber. Non solo, ma è interessante anche l'analogia tra la traduzione di Graeber e la traduzione del Nuovo Mondo in Giovanni 1.1. Infatti la traduzione di Graeber in Giovanni 1.1 traduce proprio esattamente come la traduzione del Nuovo Mondo Nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era un Dio. Ovviamente un Dio con articolo è scritto in minuscolo. Stesso modo di tradurre della traduzione del Nuovo Mondo o meglio la traduzione del Nuovo Mondo stesso modo di tradurre di Graeber perché la versione di Graeber ricordiamo è del 1937. Interessante, vero? la versione di Graeber in Giovanni 8.58 riportando le parole di Gesù ai giudei dice Gesù rispose io sono più grande di Abramo I am older than Abram sono più grande di età di Abramo in effetti significa tradotto bene tradotto alla lettera la traduzione del Nuovo Mondo traduce Gesù disse loro in verità sì in verità vi dico prima che Abramo nascesse io c'ero in entrambi i casi nessuna delle due traduzioni delle due versioni traduce prima che Abramo fosse io sono dove Gesù si presenta come l'io sono quindi con la sua piena divinità con la sua piena deità è interessante come entrambe le versioni nascondono questa verità questa realtà cioè che Gesù è Dio pari al Padre ma non solo ho trovato anche una somiglianza con tra le due versioni in Romani capitolo 9 il versetto 5 la traduzione di Greber sempre riportandovela in italiano dall'inglese traduce così da cui sono i patriarchi da cui discende il corpo mortale di Cristo letteralmente vi sto leggendo mortal body of Christ per questo motivo Dio che domina su tutto sia lodato in eterno la traduzione del nuovo mondo traduce a loro appartengono i patriarchi dai quali è disceso il Cristo secondo la carne punto Dio che è al di sopra di tutto sia benedetto per sempre amen modo di tradurre quasi identico a quello della versione di Greber quella spiritica mentre invece se fate un confronto con altre versioni e con un interlineare questo era un versetto tra l'altro citato in un video presente su questo canale nella playlist dedicata proprio alle alterazioni della traduzione del nuovo mondo in realtà l'apostolo Paolo questo versetto per come è stato inteso dall'apostolo Paolo è a loro appartengono i patriarchi dai quali è disceso il Cristo secondo la carne che è Dio benedetto in eterno e invece sia la traduzione del nuovo mondo che la versione spiritica di Greber in maniera analoga separano le due frasi mettendoci un segno di punteggiatura proprio per non lasciare intendere che Paolo si stava riferendo a Cristo come Dio benedetto in eterno è interessante vero? sono interessanti queste analogie un'altra analogia l'ho trovata in Tito 2.13 la traduzione di Greber dall'inglese traduce così when the glory of the great God will appear together with the glory of our Redeemer Jesus Christ cioè in italiano significa quando la gloria del grande Dio apparirà assieme alla gloria del nostro Redentore Gesù Cristo quindi la versione di Greber quella spiritica separa Dio da Gesù Cristo e traduce in modo che al lettore sembri che nel cielo apparirà la gloria di Dio separata da quella di Cristo quindi due glorie appariranno come se apparissero due Dei ed è interessante che la traduzione del nuovo mondo traduce in maniera abbastanza simile mentre aspettiamo la felice speranza e la gloriosa manifestazione del grande Dio e del nostro Salvatore Gesù Cristo anche la traduzione del nuovo mondo similmente alla versione di Greber separa Dio da Cristo in questo versetto mentre invece e anche qui ci ho fatto un video presente su questo canale se voi confrontate questo versetto ripeto Tito 2.13 con altre versioni e con un interlineare dai testi originali questo versetto è così reso mentre aspettiamo la beata speranza e la gloriosa apparizione del grande Dio e Salvatore Gesù Cristo quindi Dio e Salvatore riferito a Gesù Cristo e invece la traduzione del nuovo mondo similmente alla versione di Greber separa con una parolina di congiunzione Dio da Gesù Cristo proprio per non far creare non far intendere al lettore che Gesù è Dio un'altra analogia l'ho trovata nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1 il versetto 1 la traduzione di Greber traduce così questo passo Simon Pietro servo e apostolo di Gesù Cristo manda i saluti ve lo sto traducendo dall'inglese a tutti a tutti coloro che sono stati chiamati dal nostro Dio e dal nostro Redentore Gesù Cristo ad una fede simile alla nostra anche qui la versione spiritica di Greber esattamente come nel caso di Tito 2 13 separa Dio da Gesù Cristo e la traduzione del nuovo mondo in maniera abbastanza analoga traduce così Simon Pietro schiavo e apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno acquisito una fede preziosa quanto la nostra mediante la giustizia del nostro Dio e del Salvatore Gesù Cristo se fate un confronto con altre versioni anche qui e con un interlineare dai testi originali greci si parla di grande Dio e Salvatore tutte e due riferiti a Cristo e non separando le due entità ecco questi sono alcuni passi che ho trovato analoghi nel modo di tradurre di essere tradotti sia per quanto riguarda la traduzione il testo critico di Greber di Johannes Greber del 1937 testo redatto con l'aiuto ricordiamo di spiriti di angeli di spiriti guida quindi con attuando il metodo della medianicità quindi Greber è stato un vero e proprio medium spiritico e analogie che ci sono con il modo di tradurre in questi passi che vi ho enunciato che vi ho elencato con la traduzione del nuovo mondo ora è vero che l'organizzazione dei testimoni di Geova facciamo pure finta che prima non sapeva per tutti gli anni precedenti non sapeva che Greber era uno spiritista ripeto mi rimane difficile crederlo perché era risaputo nelle sue opere ricordiamo lui ha scritto anche un libro intitolato comunicazione con il mondo degli spiriti quindi a me sembra veramente strano che l'organizzazione dei testimoni di Geova negli anni passati la citava come fonte autorevole questa versione di testo critico del nuovo testamento non sapendo che Greber era uno spiritista visto che queste sono opere che risalgono addirittura agli anni 30 dunque facciamo pure finta che sia così no? diamo il beneficio del dubbio ma come mai se l'organizzazione ha preso le distanze da questa versione spiritica tanto che non viene più citata come fonte autorevole come mai questo modo di tradurre simile in questi passi che vi ho elencato se troverò altre somiglianze altre analogie tra le due versioni quella di Greber e la traduzione del nuovo mondo vi metterò al corrente ci farò ci farò un altro video sicuramente ecco la domanda è questa come mai questo modo di tradurre simile? beh vi ringrazio per l'attenzione vi esorto a fare le vostre riflessioni e a meditare su questa cosa e se Dio vuole al prossimo video